Si respira aria di frattura fra il sindaco Alemanno e due autorevoli esponenti del PDL, Giordano Tredicine e Fabrizio Santori. Al centro della contesa c'è ancora una volta il piano Nomadi. Anche se da parte dei protagonisti il clima di Maretta viene smentito, la divisione fra il sindaco e i due presidenti di commissione Tredicine per le politiche sociali e Santori per la sicurezza appare evidente. In mattinata erano attese infatti le ruspe nella zona di Villa Troili, nell'area della discarica di Malagrotta, dove secondo Alemanno sarebbe dovuta sorgere una nuova tendopoli. A contrastare l'azione però è sceso in campo proprio Santori, a lungo consigliere del sedicesimo municipio, dove è inserita la zona. Di pochi minuti prima la dichiarazione del sindaco Alemanno con cui ammoniva. Riterrò responsabile delle future disgrazie chi oggi dice no ai provvedimenti, come la realizzazione di tendopoli. Poi le ruspe si fermano bloccate dallo stesso Alemanno. Quello che non si arresta è il clima di polemiche dentro il centrodestra. Teatro della contesa, una riunione congiunta delle commissioni consigliari per le politiche sociali e della sicurezza, convocata per discutere l'emergenza a Roma. A squarciare il velo è il presidente Tredicine, che annuncia la ricerca di aree di accoglienza sorvegliate da militari in alternativa alle tendopoli. La commissione adesso sta valutando quali sono le strutture di accoglienza che possono essere messe a disposizione. Siamo sull'ordine di 700 persone da poter ospitare, ma stiamo valutando se queste strutture sono al momento disponibili. La seconda cosa è che stiamo valutando con la commissione anche i fondi che sono stati spesi per la vigilanza e la videosorveglianza all'interno di queste strutture, che equivalgono a circa 4 milioni di euro per tutto il piano nomadi all'anno. Quindi stiamo vedendo se attraverso anche la commissione possiamo chiedere una deroga al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa di disporre anche attraverso l'ausilio di forze armate, quindi in questo senso dei militari, per cercare di risparmiare questi 4 milioni di euro che possono essere chiaramente dei fondi disponibili da poter impiegare sulla costruzione di nuovi campi nomadi. Arimanno ha dichiarato che segnerà i nomi di coloro che diranno no a qualsiasi iniziativa del Campidoglio. Non abbiamo paura di tornare, siamo stati eletti dal popolo, quindi non abbiamo paura. A inaspirire il clima è il Presidente Santori, che ricorda l'impossibilità per il Comune di accogliere tutti. Da Maroni ci aspettiamo una cosa importantissima, almeno personalmente, quella di darci degli strumenti per intervenire. C'è un disegno di legge approvato dal Governo, ora è al baglio del Parlamento, credo che sia stato inviato anche in Europa, è quello delle espulsioni dei cittadini comunitari. Questo è un punto fondamentale, perché le risorse dell'amministrazione sono limitate. Non ci sono le strutture d'accoglienza, ecco perché si sono bloccati gli sgomberi, e quindi si poteva evitare anche in questo contesto quella tragedia di Via Appia. Quindi la questione importantissima è quella delle espulsioni o dei rimpatri assistiti dei cittadini comunitari, cioè coloro che non hanno né una residenza né un lavoro. Questo lo dice una direttiva europea, deve essere immediatamente applicata, perché noi possiamo fare la nostra parte fino a un certo punto. Quando finiscono fondi, finiscono strutture d'accoglienza, non dobbiamo dare un messaggio dell'accoglienza per tutti. Accoglienza per tutti vuol dire tendopoli in ogni municipio, vuol dire realizzare strutture che poi verranno costantemente colmate dagli nuovi arrivi che arriveranno soprattutto dalla Romania. Ora abbiamo anche il problema di Lampedusa, non so adesso come vogliamo comportarci in questa situazione, serve durezza e dare un messaggio chiaro. Roma non è la città che può accogliere tutti, è una città che ha le porte aperte, che ha una grande assistenza, noi spendiamo milioni di euro per l'assistenza in genere, e quindi è evidente che serve una politica differente. A buttare acqua sul fuoco è invece il delegato del sindaco per la sicurezza, Giorgio Ciardi, presente alla riunione. Se noi riusciamo a provare delle strutture d'accoglienza più valide e che possono garantire maggior sicurezza a queste famiglie, tanto meglio. Però in mancanza di questo è meglio una tenda ignifuga che una baracca dove ovviamente si può morire con molta più facilità. Il sindaco ha inviato tutti a una riflessione, non ci possiamo indignare e strappare le vesti nel momento che succede la tragedia e poi il giorno dopo rifiutare il fatto che magari a pochi chilometri da casa la Cosa Nostra può essere installato una struttura che possa garantire quelle minime condizioni di sicurezza e dignità a queste persone. Il vicepresidente della Commissione Politiche e Sociali Daniele Ozimo, consigliere del PD, dipinge una riunione dai toni accesi in cui la rottura fra una parte della maggioranza e i piani del sindaco è del tutto evidente. La frattura c'è nel PDL, è stata palpabile anche in questa seduta della Commissione Politiche e Sociali perché chiaramente il fallimento del piano nomadi del sindaco Alemanno ha gettato nello scompiglio più totale l'intera maggioranza. Questo è un piano che ha attribuito all'amministrazione Alemanno sul tema nomadi ungenti quantità di risorse, 30,8 milioni di euro, mai nessuna amministrazione prima aveva potuto disporre di risorse simili e in realtà ci troviamo di fronte al fenomeno dei microcampi abusivi esplosi completamente nella città e viaggiamo intorno alle 250 unità e ci ritroviamo con lo stesso identico numero dei campi attrezzati, 7 erano nella precedente amministrazione e 7 permangono ancora adesso. C'è la chiusura di due campi tollerati, Casilino 900 e Lamartora, su Lamartora noi come Partito Democratico ci siamo battute perché si intervenisse in maniera prioritaria sul campo di Lamartora viste le condizioni igienico-sanitarie che coinvolgevano solo le comunità rom ma anche i cittadini romani che abitavano nei dintorni. Tra l'altro la chiusura di questi due campi ha determinato il sovraccarico di presenze in 5 di 7 campi attrezzati, quindi siamo in una fase di stallo e oggi l'amministrazione Alemanno pensa bene di litigare e quindi assistiamo a questi teatrini in commissione nel quale pezzi del PDL accusano altri pezzi di inettitudine. Intanto il sindaco Alemanno ha assicurato che ascolterà i consiglieri sia di destra sia di sinistra contraria ai nuovi insediamenti provvisori della popolazione nomade esclusa dai campi regolari.